bella raga dal vostro grande capitano napoli e benvenuti in questo nuovo video subito dopo questa breve premessa ci sarà un video una clamorosa notizia di calcio a mercato che riguarda il nostro amatissimo napoli un ringraziamento a tutti quelli che si stanno continuamente iscriviti al mio canale tutti quelli che non si sono ancora iscritti al mio canale iscrivetevi iscrivetevi al mio canale e mettete un bel like a questo video sempre e comunque forza napoli ciao a io clamorosa novità di calcio a mercato gemes rodriguez vicinissimo a napoli il napoli ha già l'accordo con gemes rodriguez per un quinquennale da 6,5 milioni di euro stagione più il 50 per cento dei diritti d'immagine il giocatore è già stato convinto da carlo ancellotti che lo ha già allenato al bayern monaco il real ha detto no al prestito secco chiede 50 milioni il napoli ne offre 45 quindi ballano solo 5 milioni di euro tra domanda ed offerta veramente molta molta poca differenza tra domanda e offerta unico ostacolo a conclusione positiva della trattativa potrebbe essere se il real madrid inserirà nella trattativa gemes rodriguez come parziale contropartita per portare pugba al real madrid il giocatore comunque vorrebbe napoli convinto appunto da carlo ancellotti dei lorentici sarebbe convinto di fare questo grande acquisto su esplicita richiesta di ancellotti per far fare il napoli definitivo salto di qualità della squadra sareste contenti di gemes rodriguez se venisse a giocare nel nostro grande napoli ditemelo nei conventi oppure se vorreste un altro tipo di giocatore con caratteristiche tecnico tattiche diverse grazie a tutti